E va ricordato quindi che quello che hanno fatto le Brigate Rosse ha macchiato tutti noi e sono state avversario di tutti noi, non si può neanche equivocare con frasi che per la verità di ambiguo hanno poco, come quelle del tweet rimosso della professoressa, che forse, ma nessuno ha chiesto il nostro parere, forse avrebbe fatto meglio dire ho scritto una cosa sbagliata e per questo l'ho cancellata e questo forse sarebbe stato molto meglio.